Paolo Mieli, si dice che la Prima Guerra Mondiale ha cambiato definitivamente il corso di molte cose. Ne scelga una di argomento che secondo lei è definitivamente cambiato? Dopo la Prima Guerra Mondiale non è più così, niente più uguale. La Prima Guerra Mondiale ha cambiato tutto, ma in particolare ha cambiato l'Italia, nel senso che fino al 1915, cioè dal 1861, quando l'Italia si è formata, al 1915, praticamente il Paese non esisteva nel senso in cui lo conosciamo oggi. Persone che parlavano dialetti diversi, che non viaggiavano, gli stati preunitari, ognuno aveva il proprio motivo di identità e anzi aveva in antipatia gli altri. Nelle trincee della Prima Guerra Mondiale gli italiani si conobbero per la prima volta, cominciavano a parlare, a solidarizzare tra loro. Nacque l'amor patrio, l'amore per l'Italia. Prima l'Italia era un'entità astratta, in quei giorni divenne un'entità concreta. E anche dei vizi si accompagnarono a questo, per esempio l'idea che a Roma si tramasse contro le trincee, che i governanti non sapessero niente o si facessero gli affari propri a dispetto delle sofferenze che avvenivano fra questi poveri Cristi, che gli ufficiali fossero tutti degli incompetenti. In realtà la guerra fu un grande macello, fu una cosa orribile. Non sono state evidenziate poi dagli storici delle colpe specifiche che facessero riferimento pieno alle lamentelle di cui ho detto. Ma quindi nacque l'amor patrio e nacque anche una forma di risentimento patrio contro il centro, contro Roma o contro le gerarchie che poi avremmo conosciuto come pregio e come difetto nel secolo successivo. Ma è sbagliato dire che in qualche modo il nazionalismo, anzi l'etno nazionalismo o il populismo sono nate lì? Il croggiuolo è stato quello della prima guerra mondiale che poi si è trasformato nel giro di pochi anni in fascismo? Direi che il nazionalismo ha preceduto e reso possibile la prima guerra mondiale. Non dimentichiamoci che nel maggio del 1915 il Parlamento era maggioranza contrario, voleva rimanere neutrale, che Giovanni Giolitti, il più importante statista di quel periodo, voleva rimanere neutrale, che gli stati maggiori erano perplessi perché noi in quell'occasione cambiamo un'alleanza, quella a cui avevamo aderito nel 1882, cioè 33 anni prima, e che avevamo rinnovato poi 6 o 7 volte, quindi non una cosa occasionale, e il Parlamento e lo Stato erano contrari. fu proprio l'afflato nazionalistico che era nato nel 1911 ai tempi della guerra di Libia a spingere in quella direzione, per cui l'idea che i semi del fascismo o a parte dei semi del fascismo siano stati gettati nel 1915 è vera, a meno in parte è vera, però l'operazione messa in moto fu comune a quella di altri paesi che non ebbero il fascismo. E infine l'ultima cosa, c'è qualche paragone possibile con il 2014? Penso per esempio al nazionalismo dell'Europa in questo momento, che sta nuovamente emergendo in alcune nazioni. Sì, questo è anche un sentimento di risentimento, scusate il bisticcio, nei confronti della Germania. Cioè, allora, come adesso, si sentiva l'impetuosità e la potenza dell'ex Prussia, della Germania, che si era formata, non dimentichiamolo, dieci anni dopo l'Italia, cioè l'Italia nel 1861, la Germania nel 1871, ma già aveva un ruolo di primissimo piano da padrone in Europa. E quindi nacquero leggende e risentimenti che sono comuni ad alcune leggende e risentimenti che circolano a piene mani anche ai tempi d'oggi. Guardate, oggi viene a dire, ma tutto è diverso, ma figuriamoci se qualcosa può degenerare in guerra. Il fatto buffo è che anche allora si pensava questo, anche allora si pensava, fra il 1911 e il 1913, nessuno, davvero nessuno, pensava che potesse nascere un conflitto di quelle proporzioni, anche perché l'ultima guerra combattuta sul suolo europeo, quella franco-brussiana, nel 1870, era stata talmente sanguinosa che sembrava, come poi quando stava per esplodere la Seconda Guerra Mondiale, il ricordo sanguinoso della prima sembrava, figuriamoci se scoppia una nuova guerra. Ecco, quindi io escludo ovviamente che possa scoppiare una guerra sul territorio europeo adesso, ma starei attento ai sentimenti lasciati in libertà in questi giorni, perché sono gli stessi di allora. Grazie.